Anche quest'anno il comune di San Pietro Altanagro, guidato dal sindaco Domenico Quaranta, intende organizzare dei campi estivi con diverse attività ludiche e ricreative in favore dei bambini e dei ragazzi residenti. Dunque l'amministrazione comunale ha pubblicato pochi giorni fa un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse, in particolare sull'avviso pubblicato sul sito del comune ma anche sulla pagina facebook ufficiale dell'ente, si legge che al fine di programmare in maniera efficiente le attività estive in favore dei bambini residenti, si chiede di comunicare entro il 9 giugno all'ufficio affari generali l'interesse a partecipare ai campi estivi che questa amministrazione è in procinto di programmare. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata sull'apposito modulo pubblicato sul sito allegato all'avviso dove sono indicate le date presunte delle attività ludico-ricreative in programma. Si prevede di realizzare attività motori e presso Metasport per tre settimane dal 10 al 30 luglio ma anche attività ludico-ricreative a San Pietro Altanagro sempre per tre settimane e sempre nel periodo compreso tra il 10 e il 30 luglio e inoltre è prevista anche un'attività didattica suppletiva in lingua inglese e o informatica in favore dei soli residenti iscritti alla scuola primaria di San Pietro Altanagro o secondaria dunque per bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 14 anni. Quest'ultima attività si prevede di realizzarla per due settimane a settembre. Infine fanno sapere dal Comune che potrà essere prevista a carico dei genitori quale unica spesa da sostenere il costo di copertura assicurativa prevista per i casi di specie.